Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo come avere più pump in palestra questo è super succoso allora prima di iniziare subito ve lo dico se è la prima volta che arrivate e vedete i video di questo canale questo è un canale di bodybuilding di alto livello io sono un preparatore atletico, seguo professionisti e amatori quindi riporto quella che è la mia esperienza vivo in un contesto di vero bodybuilding quindi vi do degli insight per cui formule magiche, stelonerie, scorciatoie non esiste niente di questo genere non lo troverete su questo canale qua c'è soltanto tutto quel che serve per raggiungere il massimo dei risultati ok quindi lo chiarisco sin da subito detto questo vediamo come avere più pump in palestra allora non voglio dire perché serve il pump generalmente diciamo così un miglior pompaggio muscolare vuol dire un muscolo più anabolico un muscolo più idratato un muscolo che quindi da una parte avrà una componente di adattamento ipertrofico maggiore quindi uno stimolo ipertrofico ulteriore dall'altra avvierà in maniera molto più efficiente i processi di recupero quindi sicuramente avere un ottimo pompaggio in palestra è importante ma di questo eventualmente parleremo in un altro video adesso vediamo di appagare tutti quelli che come me vogliono sentirsi super gonfi soprattutto adesso che sto due settimane dalla gara in palestra e cerchiamo di capire effettivamente al lato pratico quali sono degli aspetti su cui giocare per ottenerlo il primo aspetto importante è l'acqua il più scontato in assoluto bere tanta acqua state idratati se non siete idratati il pompaggio veramente non sarà ottimale semplicemente perché il grande componente del pompaggio muscolare è dato proprio dall'acqua quindi il mio consiglio è quello di bere almeno 6 litri di acqua al giorno sia in fase di cut che di bulk eventualmente in cut ci sono modulazioni in questo momento sto a 8 litri d'acqua però comunque cercare di bere tanto cercate di bere lontano dai pasti per non appesantire troppo la digestione soprattutto se state ad alti carboidrati in periodi di bulk e cercate di idratarvi bene prima dell'allenamento e soprattutto durante e dopo l'allenamento io personalmente nel mio intra workout bevo 3 litri d'acqua nell'ora prima di allenamento cerco di bere un litro d'acqua e poi dopo l'allenamento insomma più o meno sto sempre su un litro quindi già 5 litri d'acqua se ne vanno tutto il pomeriggio mettiamo così poi la mattina sto bevendo sempre abbastanza perché sto in livello di idratazione magari in fase di bulk bevo un po' di meno prima dell'allenamento eccetera però cerco sempre di stare sui 5-6 litri d'acqua al giorno e questo è molto importante è un ottimo punto di partenza è direttamente correlato all'acqua il discorso degli elettroliti quindi in generale i sali in primis il sale da cucina super scontato ma il sodio è non soltanto un'ottima componente per far fronte a quella che è l'espulsione di sodio durante la sudorazione ma dobbiamo considerare sempre che il glucosio sfrutta i meccanismi di assimilazione che sono di risporto attivo e sono sodio dipendenti quindi il sodio in generale il sale da cucina migliora la captazione di glucosio non soltanto all'interno del torrentematico l'emissione del torrentematico ma anche all'interno del miocita del muscolo di nuovo il pompaggio è dato essenzialmente da acqua e dall'emissione di nutrienti tra cui anche il glucosio che entra nel muscolo sotto forma di ricoglione muscolare perché si lega all'acqua quindi inserire il sale è molto importante in generale sarà durante tutta la giornata in particolare nel pre-workout e nel nostro intra-workout quindi nei pastiche e nei post-workout che sono tendenzialmente i momenti in cui teoricamente dovrebbero essere un po' più glucidici e in particolare il mio consiglio è di bere di cercare di prendere un grammo di sale per ogni litro d'acqua come discorso di default ho già fatto dei video riguardo al sale quindi rimando su quelli nel nostro intra-workout assicuriamoci di avere anche una buona componente di magnesio e di potassio io personalmente suggerisco una bustina di magnesax che è il magnesio bisglicinato che ha un altissimo grado di assorbimento rispetto alle forme di citrato se utilizzate il citrato utilizzate 2,5 grammi di citrato di magnesio citrato quindi no di magnesio puro per quanto riguarda il potassio mi consiglio di prendere circa 3,5 grammi di potassio citrato quindi di nuovo di potassio puro per esempio nel vostro intra-workout e questo vi assicurerà un'emissione di sali e una maggiore idratazione quindi pompaggio muscolare terzo punto i carboidrati carboidrati generalmente nella giornata ossia normalmente se stiamo bassi di carboidrati è normale avere poco pompaggio cosa che avviene durante per esempio i periodi di preparazione alle gare quando stiamo in fase un po' più di restrizione glucidica quindi avere comunque una buona componente di carboidrati che gestiamo bene quindi anche una sensibilità insulinica ottimale e di questo ho fatto già diversi video e in particolare inserire una buona quantità di carboidrati nel nostro intra-workout sia nella bevanda che sorseggiamo durante l'allenamento io consiglio sempre più o meno 0,5 grammi per chilo di peso corporeo quindi per esempio una teta di 80 kg un 40 grammi di carboidrati una teta di 90 kg un 45 grammi di carboidrati che vi discorrendo possiamo stare un po' più alti un po' più bassi in base alla fase specifica in cui stiamo non scendete troppo in fase di definizione in cui i carboidrati intra-workout possono essere un ottimo un ottimo tool per migliorare la performance e il recupero muscolare quindi non scendete io personalmente per esempio in questa fase di gut sto a 50 grammi di carboidrati durante l'allenamento come carboidrati vi consiglio le ciclodestrine perché sono una forma di altissimo peso molecolare quindi lo svuotamento gastrico è molto veloce di contro però l'immissione nel torrente martico è abbastanza lenta quindi non ci portano a forti spike insulinici quindi in generale la forma migliore di carboidrati per andare a stoccarli all'interno del muscolo ma non sovraccarci a livello gastrointestinale quindi chiamare troppo sangue a livello gastrointestinale ora correlato ai carboidrati nell'intra-workout parliamo del nostro pre-workout che è un aspetto altrettanto importante ora nel nostro pre-workout io voglio assicurarmi di avere un innanzitutto di non mangiare troppo a ridosso quindi il mio consiglio è mangiare due ore anche due ore e mezza prima del vostro allenamento nel mio pasto pre-workout voglio avere sicuramente del sale come abbiamo già detto una forma di carboidrati e una forma di grassi che vanno in questo modo a abbassare l'eventuale spike insulinico e il carico glicemico quindi ci garantiscono di avere una lenta emissione di carboidrati durante queste due ore di digestione eccetera ma anche durante il nostro allenamento quindi io per esempio attualmente se guardate i miei full day of eating oppure vedete i log che ho su Rhino Nation utilizzo i cereali di mais che sono una forma molto plain e super digeribile quindi la digeribilità in primis ci metto un filo di sale anche nel dolce e questa è una chicca proprio da cuochi come avete visto nel full day of eating di Georgia e utilizzo la pasta di cacao la pasta di cacao che non è cacao cioè non è cioccolato che trovate sul mercato eventualmente potete prendere il cioccolato al 90-99% però la pasta di cacao è ancora meglio perché ha tutti quei benefici della cioccolata della pasta di cacao che sono soprattutto riguardo al rilascio poi di dopamina e dell'ossido nitrico quindi da una parte avremo più lucidità durante l'allenamento e un maggior pompaggio muscolare io personalmente utilizzo un 20 grammi di pasta di cacao che sono circa un 10 grammi di grassi ora l'ultimo punto è il discorso della connessione dello stile di allenamento perché se facciamo allenamenti di forza è logico che il pompaggio sarà ridotto mentre se lavoriamo con una forma perfetta una massima esecuzione e ripetizioni tendenzialmente più elevate allora avremo un maggior pompaggio ora non dovete impostare il vostro allenamento esclusivamente in funzione al pompaggio muscolare ho fatto un video molto interessante su Renonation riguardo a quello che dovete ricercare in allenamento quindi vi consiglio di andarlo a vedere perché spiego nello specifico l'allenamento deve essere sfruttato in modo da stimolare il distretto muscolare però inserire una componente ad alte ripetizioni che possa essere iniziale per massimizzare subito il pompaggio possa essere finale per massimizzare tutti i processi di recupero alla fine è un'ottima soluzione quindi non disperatevi se sentite poco pompaggio perché lavorate di forza magari ma in questo caso magari chiedetevi se vale la pena inserire una componente di allenamento metabolicamente differente e nella maggior parte dei casi la risposta è positiva ragazzi questi sono 5 consigli per un miglior pompaggio in palestra qualsiasi domanda scrivetela qua sotto e scrivete voi magari dei consigli degli integratori delle cose che avete utilizzato magari il berbo bietole rosse che stimola la nostra unitica insomma qualche tip da parte vostra per condividere qua sotto nei commenti così facciamo un bel commentario di tutti i consigli per un miglior pump muscolare qualsiasi domanda di nuovo scrivetela qua sotto sarò ben liato di rispondere e con questo ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao